Buongiorno, ben ritrovati, benvenuti a Occhio ai Giornali, il primo appuntamento con l'informazione su Fano TV, naturalmente guardiamo i giornali in edicola questa mattina nelle edizioni locali, però prima come sempre previsioni del tempo e il santo del giorno, oggi giovedì 18 febbraio, Beato Giovanni da Fiesole, il sole è sorto alle 7.03 e tramonterà alle 17.41, previsioni del tempo, vediamo l'evoluzione per queste ore e anche per i giorni successivi, cielo nuvoloso, notte e tempo con rapida attimazione nella copertura, via la copertura nel corso della mattinata ad iniziare da ovest, poco nuvoloso nella seconda parte della giornata, precipitazioni assenti e in diminuzione i valori massimi, quindi avremo una seconda parte della giornata per oggi che si presenta migliore sul fronte meteorologico. Domani invece cielo parzialmente nuvoloso, maggiori addensamenti nelle zone interne e nubi stratificate in transito verso sera, quindi vedete anche la comparsa della pioggia sul crinale appenninico, possibili locali fenomeni sui rilievi, parliamo appunto della pioggia e naturalmente anche il limite delle nevicate è sopra ai 1300 metri, in diminuzione ancora i valori minimi ma in aumento i massimi, quindi ci sarà un divario tra minime e massime ancora più accentuato, vediamo come si presenta all'inizio del fine settimana, sabato appunto 20 febbraio, cielo sereno poco nuvoloso, qualche addensamento sui rilievi, quindi sulla costa ci sarà tutto sommato tempo buono. E quindi entriamo subito nei giornali, vi porto nelle pagine del resto del Carlino, partiamo da quella che riguarda Pesaro, c'è Cronaca, nella pagina che riguarda appunto la città di Pesaro, si parla degli arresti che sono stati fatti da parte della polizia e insomma guardiamo che cosa è successo, pistola e cocaina, le amiche di Galtieri aveva una Browning 7,35, i poliziotti gli hanno trovato in casa anche 20 grammi di neve, insomma di cocaina, arrestati di 62enne calabrese per detenzione dell'arma e spaccio, senza punzonatura, il dirigente Silio Bossi dice stiamo verificando se abbia mai sparato senza punzonatura, quindi aveva i codici abrasi per renderla irrinconoscibile nel caso che venga appunto ritrovata. Però sempre nelle pagine del Carlino ci si racconta una bella storia, una storia che sta andando bene, la festa per Asia che torna a casa dopo il secondo trapianto di polmoni, è stata operata a Siena, è una 19enne pesarese, è un caso limite addirittura a livello mondiale. Fondazione, lega fibrosicistica con Aido e sistema donazione e organi sono stati decisivi per salvare la vita a questa ragazza, insomma qui è ripercorsa come sempre fa il Carlino di Spalla un po' tutte le tappe di questa vicenda che è andata bene, Wonder Asia come la chiamano, è la ragazza straordinaria capace di tirare fuori il bello da tutte le persone. Ancora rimaniamo per l'ultima pagina che vi propongo, scusate, nelle pagine del resto del Carlino che è finita la disavventura per una persona accusata di violenza sessuale sulla nipote, un artigiano giudicato però innocente dal tribunale, quindi fine dell'inferno, assolto dopo 4 anni, la vicenda in un paese piccolo e la sua vita era diventata impossibile, il PM aveva chiesto 7 anni per quest'uomo. E poi Piazzale Carducci, siamo sempre a Pesaro dove è presa d'ostaggio dai parcheggiatori abusivi, Piazzale Carducci, Carducci, Prefettura ha già trattato il caso in un comitato per l'ordine, ordinanze sindacali per allontanare i questuanti molesti. Entriamo nelle pagine del resto del Carlino che riguardano Fano dove si parla di una vicenda che è stata trattata diverse volte in passato, è la famiglia Vindice che occupa un appartamento da case popolari abusivamente, vedete qui nella foto ritratta proprio lo striscione che la famiglia espose all'epoca dei fatti, però ora c'è una situazione paradossale perché la persona che è stata assegnataria di questo appartamento è sotto sfratto ma non può entrare nella casa popolare che gli è stata assegnata appunto perché è occupata in maniera abusiva. È una donna di 50 anni, disoccupata, che però ha due figli e quindi ha una situazione critica perché il 18 marzo gli sarà comunicato lo sfratto per morosità e quindi è un po' allarmata perché non si sblocca questa situazione, c'è di mezzo anche un legale, poi nell'articolo troverete tutti i particolari di questa vicenda e dice che in due anni il Comune non ha risolto la situazione, però io il 18 marzo sarò cacciata da quello che è il mio alloggio attuale e quindi preoccupazione per come andrà a finire questa vicenda. Ultima pagina del resto del Carlino, si spengono le luci per un'iniziativa bella, molto bella, promossa da un programma di Radio 2, Caterpillar, mi illumino di meno, domani in piazza ci sarà questo momento dove ci sarà appunto musica, canti e una sensibilizzazione per tutte le giovani generazioni sul risparmio energetico e quindi anche quest'anno torna mi illumino di meno a partire dalle 16.30 fino alle 19 in piazza 20 settembre si parlerà e si suonerà su questo tema. Poi passaggi festival, arriva a Sassonio, presentato ieri in Comune. L'evento per quest'anno, giunto alla sua quarta edizione, nuove sfide per la Kermesse che tenta un salto di qualità e coinvolge un po' tutti i posti più caratteristici della città di Fano, insomma oltre alla piazza che sarà il cuore pulsante di questa iniziativa ci saranno anche tanti luoghi e anche il mare perché il festival della saggistica è l'unico festival in una città di mare, quindi il mare è giusto che venga coinvolto. Andiamo nel Corriere Adriatico, si parla nelle pagine di peso del crack della Confart, sono stati sequestrati altri beni e denunciate altre persone, bloccati i pagamenti di gettoni di presenza, TFR e pensioni individuati altri sette complici, quindi guardia di finanza in azione ancora per questo crack e poi vi segnalo un articolo che riguarda la città Ducale, pace fatta per Sgarbi con il sindaco per l'albero di Natale e Sgarbi dice che è colpa di De Marinis, il funzionario della soprintendenza che ha fatto una comunicazione naturalmente solo alla conferenza dei servizi, un errore evidenziato anche dal Ministero e quindi insomma quest'anno, questo Natale sarà ricordato anche per la guerra degli alberi di Natale, insomma il Carlino pubblicò anche una classifica degli alberi di Natale per vedere quali erano i più graditi, insomma tra Fano e Pesaro ce la siamo giocate in quanto a polemiche. Rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico, insieme per quanto riguarda Fano, in testa una lamentela di un gruppo di cittadini a riguardo dell'ostaggio che subisce uno dei monumenti più importanti di Fano, le mura romane che sono schermate tra una selva di biciclette e di motorini e di auto e allora un gruppo di cittadini ricorda al sindaco la promessa in campagna elettorale di pedonalizzare quell'area e rendere fruibili a tutti in tutta la loro bellezza, in tutta la loro magnificenza appunto le mura romane. E poi telecamere per sicurezza, si parla in grande evidenza per questo aspetto che Fanesi dice saranno utilizzate non per monitorare gli accessi nella ZTL ma per la sicurezza, quindi la giunta cambia il progetto della precedente amministrazione, la precedente amministrazione di piano parcheggi interquartieri, ancora un'incognita. E poi anche qui nelle pagine del Corriere si parla del Passaggi Festival che arriva in piazza occupando i luoghi del centro e del mare. Un modo per sconfiggere la droga e l'alcol e le dipendenze nei giovani può essere appunto l'arte, in modo particolare il teatro, una bella iniziativa, un progetto contro il disagio giovanile e arriva a Lido, si chiama Refresh Note e prevede alcune date anche d'estate. Prima era relegato nella città di Urbino, invece quest'anno arriva anche a Lido che è una zona estremamente sensibile dal punto di vista turistico e di afflusso giovanile qui a Fano e appunto lo scopo è quello di favorire la creatività e autocoscienza responsabile dei ragazzi, sono stati chiesti per potenziare questo progetto molto valido dei fondi europei. E poi vent'anni di carri allegorici in un DVD, se ne parla, 1960-1980, sono stati ospiti anche dei divani di dopocena, Paolo Alberto del Bianco e Riccardo Deli, memoria storica del carnevale come immagini e come testi, un'opera che è stata allestita raccogliendo appunto i filmati amatoriali in Super 8 e questa opera assume un valore storico perché veramente sono riportati vent'anni di carri allegorici e tutti gli amanti di questa manifestazione potranno trovare un bello spaccato di vita in questo DVD. Andiamo a Senigallia con il Corriere Adriatico, ancora il disagio creato dalla risistemazione della piazza centrale lì che era un parcheggio, un polmone importante per tutto il centro storico di Senigallia, traffico e caos perché all'uscita della scuola giustamente i genitori vanno a prendere i bambini che è una scuola proprio a ridosso della piazza e come vedete qui nella foto insomma c'è veramente di tutto e di più e i genitori arrivano e la fila è lunghissima per prendere i figli alla Fagnani, questa è la scuola in questione. Abbandoniamo le pagine del Corriere Adriatico, entriamo in quelle del Messaggero, vi porto nella prima pagina in testa la politica Ricci PD 5 Stelle e dice Pesaro è un modello da copiare, dopo vedremo perché, anche qui finanza sul crack con fart, molestie nella palestra hard, lo zio assolto dalle accuse, la cronaca con la pistola dello spacciatore sequestrata, vediamo il meteo che cosa ci dice, weekend primaverile, quindi avremo bel tempo nel fine settimana. Ecco l'articolo che riguarda la votazione in Consiglio Comunale e di cui Ricci ne va fiero perché dice Pesaro è un modello da tener conto, PD e 5 Stelle qui vanno a braccetto e cita appunto il sindaco il voto sul testamento biologico come esempio di intesa trasversale in opposizione a quello che sta avvenendo a livello romano, a livello centrale, parlamentare sulla Cirinna e qui insomma il sindaco rimarca questo aspetto della sua amministrazione. Ancora crack con fart presente nelle pagine del messaggero, per il fallimento della società i servizi della vecchia Cigia, nuovi sequesti della finanza per un totale di 150 mila euro, questi sono stati i valori sequestrati, quindi siamo quasi a 350 mila euro di beni sequestrati per questo crack finanziario. Ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Fano, naturalmente piove in municipio, in ufficio, ecco con i secchi, insomma è un'immagine un po' paradossale, almeno una decina di locali interessati dalle infiltrazioni e quindi si ricorre ai mali estremi, un po' come i film Anteguerra. L'assessore Fanesi rassicura e garantisce i primi interventi stanziando appunto 150 mila euro per l'opera rimessa in sesto di questo aspetto del comune. Taglio del nastro alla palestra bonificata, niente più amianto al Venturini e riprenderà l'attività sportiva e quindi ecco qui, ruspe tra le tombe, colpa dell'ex amministrazione. Insomma avete visto anche nei giorni scorsi la polemica sul caso appunto dei cimiteri dove ci doveva essere appunto soprattutto nell'ulivo la rimessa in sesto di alcune tombe e insomma la situazione è grave perché sono veramente foto che sono eloquenti su quella situazione e allora adesso arriva la risposta, le ruspe tra le tombe perché è colpa dell'ex amministrazione. Nell'articolo tutti i dettagli. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto anche a tutti coloro che ci seguono in replica nel corso della mattinata, questo è tutto per Occhio ai giornali, questa sera Occhio alla Notizia ma c'è sempre il sito e la nostra pagina Facebook per essere continuamente aggiornati. Grazie e buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.